Non tutti i mali vengono per nuocere. Sembrerebbe proprio il caso dell'auditorium Scavolini che a causa di lungaggini burocratiche aspetta da più di otto anni con costi triplicati il suo completamento. Eppure la conseguente eduratura viabilità interrotta su quel tratto di Viale Marconi per consentire la messa in moto del cantiere ha fatto scattare in giunta un altro tipo di ragionamento. Tra la statale Viale dei Partigiani sorgerà infatti la nuova piazza Marconi ridisegnata come nuova porta d'accesso tra centro storico e la zona mare. Sarà così interrotta permanentemente la circolazione dei mezzi resa provvisore in questi anni senza però aver prodotto effetti negativi di viabilità. Da qui l'idea del nuovo progetto esecutivo dal costo complessivo di 450 mila euro di cui una grossa fetta sarà intercettata grazie ad un bando della regione Marche. La preclusione di questo tratto di strada durante questi anni del cantiere abbiamo visto che non ha dato questi grandi risvolti negativi in termini di flussi di viabilità e questo ha dato un'ulteriore spinta a una volontà che era un po' già nell'area, quella di pensare a un intervento forte di pedonalizzazione di questo tratto di Viale Marconi. Quindi una pedonalizzazione volta a realizzare una nuova piazza. Quindi abbiamo approvato questo martedì in giunta un progetto esecutivo che abbiamo anche candidato in un bando della regione Marche che è volto proprio alla realizzazione di interventi su ciclo pedonali. Quindi un percorso che sarà pedonale ciclabile eliminando le barriere architettoniche tutto sul livello con delle finiture anche di pregio, un arredo urbano che possa essere anche il driver di un successivo intervento su piazza Primo Maggio. Un luogo predisposto per le persone, non per le macchine, per la socialità, per far vivere con iniziative, con le attività che poi si insedieranno nei locali del piano terra del parazzetto, proprio dare quella spinta in termini di vivacità che ha caratterizzato anche l'operato di questa amministrazione. Un nuovo fulcro della socialità che sarà arricchito dalle attività commerciali che sorgeranno al piano terra dell'auditorium. Da martedì 22 agosto fino al 22 settembre sarà attivo il bando per i locali interessati. E quindi abbiamo pubblicato un bando individuando anche quelle che sono le destinazioni dei locali che avranno lungo la direttrice del food, perché abbiamo pensato a attività di servizi di vicinato per il locale più grande, mentre per il locale più piccolo di 80 metri quadrati invece come di fatto somministrazione, quindi bar, pub, pizzerie d'asporto e tutto quello che riguarda un po' il mondo del cibo in particolare. Piazza e auditorium sono due progetti legati dalla rigenerazione dell'area, ma slegati per tempistiche realizzative. Un auditorium su cui c'è una grande attenzione da parte dell'amministrazione, la stessa direzione lavori è affidata al dirigente del servizio Nove Opere, sappiamo tutti quanto questa opera, questa infrastruttura sia rilevante, sulle date io non mi sbilanzo, non mi voglio sbilanzare, però sicuramente servirà avere questo contenitore pronto per non capitare alla cultura.